Un po', insomma, riesci ad usare delle armi diverse, per cui con gli uomini potresti anche farcela, ecco. Eh, ma noi, guarda, noi ci caschiamo, noi ci caschiamo. Eh, lo so. Poi, cioè, voglio dire, sai che noi uomini, adesso diciamolo, quando sapevamo in questi giorni che ci sei recitato tu, abbiamo ricordato quello che è stata la trasmissione Mast della mia generazione, non è la Rai. Oh, non è la Rai, vabbè, insomma, mi pare di una trasmissione di 20 anni fa, comunque sì. Beh, intanto hai il vantaggio che, vedi, la differenza, io in questi 20 anni ho avuto un crollo, Cristina, in questi 20 anni si è mantenuta. Vedete che i 20 anni fanno un effetto completamente diverso, da persona a persona. Hai iniziato da lì? Eh, no, in realtà ho iniziato da molto prima, cioè, da, da molto prima, nel senso che... Però erano delle più giovani di quel gruppo lì, tra l'altro? No, ero tra le più vecchie. Eh, infatti, cioè... Ero tra le più vecchie. Tra virgoletto, ovviamente. Sì, sì, avevo 19 anni, per cui fai un conto, ne ho quasi 40. Perché mi ricordo che Ambra, credo sia del 77, aveva 13-14 anni. Ambra aveva, sì, 13-14 anni, sì, 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 ed era uno tra le più giovani. Però io parto da prima, io ero... Ho iniziato facendo la valletta al Cru Civerbone di Domenica I, non so se ti ricordi il Cru Civerbone con Gigi Sabani, con i due Gifene, ecco io ero una delle vallette. Un grandissimo, lasciatemelo dire, per... Io, sembra incredibile, ma ho iniziato ai tempi anni 80, andava proprio Gigi Sabani, il mito delle imitazioni, e lasciatemi dire che è stato, prima di tutto, un grandissimo artista. Ed era anche un grandissimo uomo, sì, sono d'accordo. E lasciatemi dire che è finito anche dentro una vicenda molto triste, che secondo me... Non c'entrava nulla, assolutamente. ...non meritava perché da come è andata a finire... Sono d'accordo. ...ci fa sempre pensare su come si debbano gestire... Sì, sì. ...i casi giudiziari. Ricordiamo Enzo Tortora, ricordiamo Gigi Sabani. Se oggi parliamo di solidarietà, che è un tema importante, io capisco bene che il mondo dello spettacolo sia una vetrina importante, però ricordate cosa è successo a Lelio Luttazzi, un altro grandissimo artista, che è morto recentemente, è gente che si è vista rovinare una carriera perché si è preso un provvedimento di un certo tipo. Quando si gioca sulla popolarità delle persone... È sempre un rischio. ...bisogna pensarsi sempre molto bene. Comunque mi ricordo appunto di questo appuntamento con il grande Gigi Sabani, poi non era Rai, che poi alla fine è stata una grandissima palestra, perché sono uscite, chiaro, tante sono andate... Ma è un pochino di lancio, perché poi da lì sono passata, mi sono trasferita a Milano e ho fatto la velina di strisciare la notizia. Quindi per tre anni ho fatto la velina di strisciare la notizia, poi da lì mi sono occupata di calcio, che è il mio sport preferente.